sembrano non finire mai ogni giorno ne passano migliaia in tutte le direzioni verso destinazioni locali o estere li vediamo passare i veloci li vediamo passare i lenti li vediamo passare i corti li vediamo passare i lunghi li vediamo passare i leggeri li vediamo passare i pesanti la maggior parte della gente si sofferma sul passaggio di un treno qualsiasi esso sia si sofferma solamente sull'orario e che il treno vada avanti per arrivare a destinazione ma quanta gente si chiede davvero come fa tra virgolette a camminare un treno come tutti sappiamo la maggior parte dei nostri treni italiani sono a trazione elettrica e prendono energia dalle linee aeree tramite il pantografo ma soffermiamoci proprio su quest'ultimo a che cosa serve il pantografo come funziona che cos'è il pantografo ferroviario il pantografo è il componente posto sul tetto di un convoglio ferroviario a trazione elettrica con cui lo stesso deriva la corrente necessaria per alimentare tutte le apparecchiature elettriche e di trazione nei mezzi dotati di assetto cassa è installato su una piattaforma oscillante funzione tilting che permette al pantografo di essere sempre nella posizione corretta rispetto alla linea di contatto anche se la cassa del veicolo è inclinata il pantografo è in materiale metallico e ogni convoglio ferroviario a trazione elettrica ne ha più di uno solitamente due sulle locomotive o anche più di due per quelle più moderne e quattro per i convogli a v ma ci sono alcune eccezioni come ad esempio la e 414 che ha un solo pantografo anche se in doppia composizione e quindi permette al treno di avere comunque due pantografi in funzione oppure ad esempio le tr 460 che seppur un treno a v è dotato solamente di due pantografi un'altra eccezione particolare sono gli htr 312 e gli htr 412 dotati solamente di un pantografo in italia ci sono due tipi principali di pantografo il pantografo può essere simmetrico come ad esempio quello della 464 o asimmetrico ad esempio quello delle tr 500 ci sono poi vari tipi di pantografi simmetrici e asimmetrici ma per arrivare a questo dobbiamo fare un piccolo salto indietro i primi pantografi furono realizzati tra il 1905 e il 1906 quando furono costruite le e 360 quindi si parla di pantografi a compasso pantografi che però non soddisfavano abbastanza le fs per via della loro scomodità e per i continui sviamenti degli striscianti dal filo i primi pantografi che conosciamo noi quindi quelli simmetrici furono realizzati solo con l'uscita della locomotiva elettrica e 333 che poi diede inizio a una serie di prove ed esperimenti su altri convogli arrivando addirittura a provare i doppi pantografi paralleli su alcune automotrici ed è qui che i pantografi cominciarono a essere dipinti in rosso cioè per indicare pericolo in quanto all'epoca erano fissati vicino alla cabina da qui in poi i pantografi simmetrici cominciarono pian piano ad evolversi passando dal tipo 12 pesante e a doppio strisciante al tipo 22 con un solo strisciante fino ad arrivare al tipo 32 più robusto poi con l'arrivo di mezzi sempre più veloci si crea il pantografo tipo 52 leggero e adatto per velocità più forti e viaggi più lunghe installati per esempio nelle prime e 444 e nelle alle 601 pantografo che poi venne irrobustito e perfezionato diventando tipo 52 av installato per esempio sui tetti delle tr 450 fino ad arrivare al massimo dei pantografi simmetrici gli atr 90 leggeri robusti e aerodinamici riconoscibili per via del loro diametro stretto installati per esempio sui primi etr 500 sugli etr 485 e sulle e 400 2b mentre i primi pantografi asimmetrici furono realizzati sui tetti delle prime e 633 632 in quanto quest'ultime erano caratterizzate da reustati molto grandi che non permettevano l'installazione dei pantografi simmetrici si tratta dei pantografi fively am 41 bucc che poi furono trasformati in atr 95 gli stessi che troviamo oggi sugli etr 500 mentre quelli che vediamo per esempio sulle e 405 sono pantografi shank l'unica eccezione sono per esempio i pantografi degli agi v5 75 realizzati in francia oppure i pantografi di materiale rotabile più moderno come ad esempio hip hop o le 494 oppure i moderni grc 15 sui treni rock adesso andiamo ad analizzare più nel dettaglio le parti principali del pantografo prendiamo ad esempio lo schema del pantografo jrc 15 quindi quello di un rock tra i vari componenti del pantografo le parti più importanti sono per esempio la struttura mobile a soffietto che si distende tramite aria compressa incanalata nell'attuatore pneumatico indicato con il numero 7 la struttura mobile a soffietto è costituita da albero principale e tirante nella parte sotto indicati con il numero 2 e 4 e telaio superiore e asta di orizzontalità nella parte sopra indicati con il numero 8 e il numero 6 un'altra parte principale sono gli striscianti indicati con il numero 5 due archetti costituiti da uno strato in grafite che rimane a contatto con il filo per tutto il tragitto del convoglio gli striscianti terminano poi con i corni indicati con il numero 9 parti essenziali per impedire che la linea aerea si incastri sotto lo strisciante specialmente nei punti della linea in cui convengono più fili per esempio i deviatoi altre parti secondarie del pantografo sono ad esempio gli smorsatori indicati con il numero 8 gli attacchi agli isolatori indicati con il numero 10 e il telaio di base indicato con il numero 1 il pantografo viene azionato da una levetta che il macchinista ha in cabina tramite questo comando viene incanalata dell'aria compressa in un pistone presente alla base del pantografo il pistone poi agirà sulla struttura a soffietto del pantografo provocando la distensione dello stesso che sale fino a toccare la linea aerea con lo strisciante esercitando una forza di 6 kg sul filo questo perché il pantografo deve sempre esercitare una spinta ottimale sulla linea aerea per funzionare correttamente una spinta troppo forte potrebbe danneggiare la linea aerea una troppo debole può dar luogo ad archi elettrici che sono quei piccoli scintilli che si vedono sul pantografo soprattutto di notte lo strisciante grazie a delle treccine di rame poste al di sotto trasferisce l'energia elettrica alla struttura metallica del pantografo che a sua volta la incanala in dei cavi elettrici che poi la portano ai vari carichi normalmente i convogli hanno più pantografi per ridondanza solitamente e per convenzione si viaggia con il pantografo posteriore senso marcia questo perché se si dovesse viaggiare con il pantografo anteriore in caso di un danno o una rottura il problema potrebbe anche ricadere sul pantografo posteriore al contrario se si viaggia con quello posteriore in caso di qualsiasi rottura o danno non si corre il rischio di danneggiare anche quello anteriore normalmente un convoglio ferroviario viaggia con solo un pantografo in presa a parte alcune eccezioni nel caso in cui si debba viaggiare con più pantografi in presa deve essere regolata la velocità per evitare di danneggiare le linee aeree tra gli altri motivi per cui un convoglio utilizza più di un pantografo in presa può essere per esempio la doppia composizione oppure la formazione di ghiaccio sul filo in questo caso il convoglio ferroviario prende alimentazione solamente dal pantografo posteriore ma tiene alzato quello anteriore solo allo scopo di eliminare più ghiaccio possibile sul filo la cosiddetta funzione raschia ghiaccio mentre altri mezzi hanno delle apposite centraline che controllano in modo dinamico la spinta dei due pantografi in presa in base alla velocità ed eliminando la possibilità di danneggiare la linea aerea questo fa sì di poter arrivare alla velocità massima anche con due pantografi in presa un esempio perfetto per questo discorso è l'ETR500 anche se quest'ultimo è un convoglio particolare in Italia infatti i cosiddetti ETR viaggiano con un solo pantografo in presa perché tutti gli impianti elettrici sono distribuiti lungo tutto il convoglio l'ETR500 però nonostante sia stato classificato ETR non ha la trazione distribuita lungo tutto il convoglio ma solamente sulle due motrici agli estremi dunque il macchinista potrà decidere quale locomotiva alimentare cioè quella che dovrà tenere sul pantografo sui 3 kV il macchinista può decidere se avere spinta solo da una locomotiva e quindi tenere il pantografo della motrice di testa o di coda abbassato oppure viaggiare con tutte e due le locomotive alimentate quindi alzare il pantografo di entrambe le locomotive l'ETR500 però ha un asso nella manica nella struttura del treno è posizionato un cavo lungo più di 300 metri chiamato linea equipotenziale questa linea attraversa tutte le carrozze del convoglio mettendo in diretta comunicazione le due locomotive questo fa sì che alzando solamente un pantografo saranno alimentate entrambe le locomotive anche quella con il pantografo abbassato ma questo cavo, per una questione di fisica può essere utilizzato solamente nelle linee a 25 kV ed è per questo che sulle linee a 3 kV spesso vediamo il 500 con due pantografi alzati o anche solo con uno ma in 25 kV lo vediamo sempre e solo con il pantografo della locomotiva posteriore alzato ovviamente come tutti gli altri componenti esterni dei convogli anche i pantografi non possono durare per sempre e vengono sostituiti o riparati dopo un certo periodo di tempo ovviamente non è stabilito ogni quanto bisogna sostituirne uno perché l'usura del panto può variare a seconda di quanto è stato usato dal convoglio e a seconda della velocità per esempio il pantografo di un treno a V con molte probabilità dovrà essere revisionato prima di un pantografo di un treno regionale anche se le linee aeree fanno la loro parte in quanto grazie alla corretta poligonazione data dalle sospensioni il filo e la fune fanno una sorta di zig zag per non consumare il pantografo sempre nello stesso punto e quindi limitare i danni ma non sempre si riescono a prevenire le rotture e i malfunzionamenti ma c'è una soluzione anche a questo alcuni convogli hanno una funzione chiamata ADD Automatic Dropping Device questa funzione ha due caratteristiche principali la prima segnala l'usura eccessiva dello strisciante segnalando l'allarme al macchinista quest'ultimo può decidere se continuare ad utilizzare il pantografo con strisciante usurato ma ponendo particolare attenzione la seconda funzione è quella di abbassamento automatico in caso di rottura strisciante questo abbassamento di emergenza scatta nel momento in cui lo strisciante è pesantemente usurato e rischia di danneggiare la linea aerea quest'allarme può scattare anche in caso in cui il pantografo subisca un danno o un urto anche in questo caso arriva un allarme al macchinista quando si verificano questi tipi di abbassamenti automatici sono richiesti alcuni controlli visivi del pantografo per il pantografo l'alimentazione a 25 kV è quella più conveniente da utilizzare per via di meno perdite di potenza, per i cavi di rame più fini e altri fattori anche se quasi tutta la rete è a 3 kV in quanto i mezzi di trazione antichi utilizzavano quel tipo di alimentazione i convogli che possono utilizzare entrambe le alimentazioni si chiamano politensione perciò una macchina politensione avrà due pantografi 3 kV e due pantografi 25 kV ad eccezione di alcune macchine come ad esempio le E403 e le E402B locomotive politensione dotate però solamente di due pantografi L'alzamento e l'abbassamento del pantografo avviene in quattro occasioni la prima è l'accensione o lo spegnimento del convoglio la seconda è il cambio banco nelle stazioni la terza è in caso di emergenza come abbiamo detto prima e la quarta è in caso di attraversamento POC il POC, point of change, è un punto posto sulle linee a V dove si interrompe un tipo di alimentazione e ne inizia un altro al centro del POC è presente un tratto di circa 200 metri di catenaria non alimentata poco prima di questo tratto viene abbassato il pantografo della vecchia alimentazione e subito dopo averlo superato viene alzato il pantografo della nuova alimentazione quello a 25 kV e possiamo dire che in questo tratto i treni procedono con la spinta residua inoltre il POC manda dei segnali al macchinista che poi agirà sul pantografo i segnali in questione sono avviso, abbassamento, alzamento dunque in questo video abbiamo appreso che seppur di piccole dimensioni e poco visibile rispetto all'intero treno il pantografo è uno dei componenti principali di un convoglio ferroviario e abbiamo capito che in realtà è molto più complesso rispetto a come lo pensavamo noi appassionati